Ogni favola è un sogno e ogni sogno è magia. Il teatro esaudisce i sogni con la sua magia. Ogni giovedì alle 11 sulla web radio senza barcode si apre il spaglio su palcoscenico. Ed eccoci che siamo tornati con il secondo appuntamento di palcoscenico di oggi, giovedì 20 ottobre. Mamma mia, siamo praticamente a Natale. Ho già visto i panettoni messi nei supermercati, ma noi continuiamo con il nostro palcoscenico e un evento speciale al Teatro Trastevere martedì 25 ottobre al 21. Patrizia Bernardini, Legge Carmilla e ora è qui con noi. Ciao Patrizia e benvenuta. Grazie, grazie dell'invito. Ciao a tutti e un grazie speciale a te. Grazie cara. Leggi Carmilla, una riduzione di Frank De Angelis, sonorizzazione e musiche di Massimiliano Pace, racconti intorno al fuoco e notti da brivido. Tre noti di storie e di paure. La prima, altra stevere, ce le puoi raccontare? Grazie. A Carmilla si sono ispirati in tantissimi, uno fra tutti, Bram Stoker, quando ha scritto il suo magnifico Dracula, da cui poi Coppola ha tratto il suo magnifico film, ma è una storia che ha ispirato tantissimo la filmografia del Novecento, oltre a Bram Stoker di Coppola, ricordiamo Dreyer, Vampire di Dreyer degli anni Trenta, Roger Vadim negli anni Settanta, e molta filmografia, perché Carmilla, oltre ad essere vampira, ha predilezioni erotiche particolari, si innamora e seduce la sua bellissima ospite Laura. Quindi è una storia d'amore e di sensualità spirituale, anche se è una spiritualità nera, diciamo così. Ecco, in due parole è questo. Caspita, hai una grande responsabilità, eh? Beh, guarda, è un romanzo veramente cult, poco conosciuto probabilmente, a chi non ama molto la letteratura gotica, Le Fanu non è così conosciuto al grande pubblico, conosciamo tutti, non so, Poe, Dickens, no? Certo. Ma Sheridan Le Fanu è veramente conosciuto solo dai grandi amanti della letteratura gotica. Quindi partire con questo romanzo di Le Fanu, che poi appunto è veramente sui generis, che diciamo nell'Inghilterra vittoriana, calcola che il romanzo è stato scritto nel 1872, quindi un'Inghilterra vittoriana che vedeva le prime battaglie femministe per il voto, per il diritto allo studio e all'accesso all'università delle donne, un tizio, Le Fanu, scrive questo testo con protagonista una donna, per di più vampira. Ma come dire, è un'arma duplice perché se da una parte è rivoluzionario il fatto che sia una vampira donna e dall'altra parte questa donna protagonista che cos'è? E' demoniaca, quindi come dire, sì sì, attenzione al potere delle donne perché può essere demoniaco. C'è sempre questa doppia lettura possibile in questo tipo di operazioni culturali, capisci che voglio dire? Certamente. Via Jacopo a De Sette Soli 3, torniamo al grande teatro Trastevere, il posto delle idee. Noi siamo anche media patria di questo splendido teatro fatto da persone meravigliose. E permettimi Patrizia di ricordare ancora Marco Zordani, il direttore artistico del Trastevere, è Vania Lai, la meravigliosa Vania, l'ufficio stampa, ma il punto di riferimento oserei dire del Trastevere, ci siete mancati tanto ma siamo tornati. Finalmente noi eravamo in pausa, diciamo, dalla web radio da alcuni mesi che sono stati lunghissimi, ricominciare con Polkoscenico per me è una grandissima gioia e ricominciare al Trastevere, insomma, è un grande onore anche. Sì, il Trastevere è un bellissimo luogo soprattutto per le persone perché Marco Zordani e Vania Lai sono oggettivamente belle persone con le quali è facile collaborare e molto naturale. Quindi ci conosciamo da anni, tra l'altro, e sono contenta anch'io di provare questo primo esperimento, insomma, di questo genere, di approccio alla letteratura e di farlo al Trastevere. Gli altri appuntamenti, te li dico subito, sono a novembre, il 22 novembre, per questo ciclo di racconti intorno al fuoco, notti da brivido, il 22 novembre con Gatto Nero di Edgar Allan Poe, e il 20 dicembre, speriamo a Corriate Numerosi, per Canto di Natale di Dickens. Allora, ti dico questo, Patrizia, io ho fatto un patto con gli ascoltatori che sono tenuti caldamente a occupare tutti i posti del teatro. Quest'anno non ci sono scuse, quindi vi vogliamo veramente inondare con il nostro affetto. Ricordo che al Trastevere è sempre consigliata la prenotazione chiamandolo 0658 14004 o scrivendo a info teatrotrastevere.it Su senzabarcode.it, oltre a questa bella intervista, trovate anche l'articolo che parla di questo spettacolo con tutti i riferimenti, quindi non vi potete sbagliare. Patrizia, quanto ti senti nella parte di questa vampira? Guarda, è molto affascinante lei, ma è affascinante questo rapporto che si crea tra le due donne. Cioè Laura è la ragazza che ospita Carmilla e questo loro rapporto è un rapporto un po' da brivido, perché oggettivamente la seduzione che Carmilla opera su questa ragazza, ma che subisce anche, perché poi come leggeremo nel testo, come si verrà a capire tramite la lettura, i vampiri rimangono anch'essi affascinati, dice Le Fanu, nella tradizione vampiretta. Il vampiro subisce un fascino anche da alcuni personaggi umani e rimangono intrappolati entrambi in questa grande fascinazione. E quindi la storia di queste due donne, alla fine, più che per noi che sappiamo già come sono i vampiri, chi sono e che non sono, perché ormai siamo abituati a queste storie, quello che è bello di questo romanzo è questa fascinazione che subiscono entrambe, che sopravvive, sopravvive. Anche dopo, vabbè, non vi svelo il finale. Certo, no, no, assolutamente. Però prima di salutarci mi parli di Scostumato Teatro? Allora, Scostumato Teatro è una compagnia teatrale molto giovane, come formazione non dei suoi membri, ci conosciamo da tantissimi anni tutti. Siamo teatranti di lungo corso, ve li nomino Anna Cianca, una bravissima attrice. Cristian Mario Angeli è un regista di documentari che lavora anche a Rai 3, quindi regista di teatro anche. Franca De Angelis è una bravissima drammaturgha che ha lavorato per anni fiction, film, ancora adesso, eccetera. Tra l'altro sono tutti anche dei bravissimi insegnanti, nelle loro specialità, presso la Rufa, per esempio, che è un'accademia di Fine Arts. Abbiamo deciso di costituire questa compagnia subito dopo la pandemia, perché avevamo progettualità comuni da condividere, abbiamo già fatto due spettacoli, uno a gennaio scorso e uno a maggio, che sono andati benissimo. E questo è un altro progetto che abbiamo lanciato, perché nel nostro tempo la letteratura è l'unica, forse, oltre al teatro e alla cultura, elemento che ci può insegnare i grandi sentimenti, i grandi coinvolgimenti emotivi. Quindi, laddove noi non riusciamo più a imparare, pensa per esempio i ragazzi. Un ragazzo che è magari violenta durante una festa, la sua compagna di classe, il giorno dopo posta i video, si mangia la pizza tranquillamente, come se nulla fosse accaduto, è come se non avesse una risonanza emotiva della gravità della cosa che ha fatto. Come impariamo questa risonanza emotiva? Non è innata. I sentimenti, la morale, l'etica, si imparano. La letteratura, il teatro, la cultura, l'arte visiva, sono elementi che ci insegnano a far risonare dentro di noi questa empatia con l'altro. Non so se sono riuscita a spiegarmi. E quindi il centro del progetto è proprio questo. Quel che vogliamo fare è portare queste grandi parole all'ascolto di tutti. Progetto ambizioso, ma merda, 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 perché gente come voi salverà il mondo, secondo me, perché veramente quello che fate è importante e non solo perché ci fate divertire, come diceva qualcuno, ma ci regalate momenti bellissimi, riflessione, avete dei progetti sociali che meriterebbero tantissima attenzione anche da chi di dovere, senza abbandonarvi poi, a gestirvi tutto quanto da soli, che purtroppo è quello che capita troppo spesso. Sì, 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 è vero anche che siamo in tanti. Roma è una città caotica, c'è tanta proposta, però insomma ci proviamo, perché è la nostra passione, è la nostra vocazione artistica e oserei dire anche etica. L'arte ha sempre, come dire, un aspetto etico, anche laddove fa divertire, non è che dobbiamo fare per forza carachiri. Ma assolutamente, però il divertimento è uno dei tanti aspetti, non è l'unico. No, assolutamente, ma ci si può divertire, emozionare, anche con cose, come dire, meno leggere della commedia ridanciana, ma anche la commedia ridanciana è un momento di condivisione, nel teatro a questo di fantastico, che è condivisione immediata e quindi si scambiano energie, lì per lì tu il pubblico lo senti, il pubblico sente te, ogni sera è diverso perché sono diverse le persone e quindi è diverso l'attore, gli attori che stanno sulla scena. Questa sinergia è qualcosa di difficilmente descrivibile, però va sicuro che esiste, tu lo sai, ed è magica, perché poi la gente quando esce fuori e ha visto una cosa bella, sia di persone sconosciute che conosciute, è contenta, sta meglio, ne parla, ed è anche il momento di riaccorparci, non solo per la pandemia, e per questi due anni, ma proprio perché la socializzazione nella nostra epoca, come dire, internetiana, spesso rischia di mangiare la, come dire, la genuinità dei rapporti diretti, no? chiaro. Allora, io ricordo, Patrizia Bernardini legge Carmilla in un evento speciale al Teatro Trastevere in Via Iacopa de Sette Soli numero 3, il 25 ottobre, martedì, alle 21, io ti ringrazio di essere stata con noi, invito tutti a partecipare a questo evento e a quello del 22 novembre e poi del 20 dicembre. Posso lanciare una promozione proprio perché avete ricominciato voi di Web Radio? Allora, tutte le persone che si presenteranno al botteghino dicendo sono di barcode avranno un ridotto. Senza barcode. Allora, grazie a tutti quelli che andranno al botteghino dicendo arrivo da Web Radio senza barcode un ridotto offerto appunto dalla meravigliosa compagnia Scostumato Teatro che ha un obiettivo e veramente una volontà di ferro. Vi aspettano tutti martedì 25 ottobre. Grazie Patrizia, merda, merda, merda. Grazie a te tantissimo, grazie agli ascoltatori è stramerda, come sei piovessi. A presto. Ciao. Ogni favola è un sogno. e ogni sogno è magia. Il teatro esaudisce i sogni con la sua magia. Ogni giovedì alle 11 sulla Web Radio senza barcode si apre il spario su barco scenico. e ogni sogno si potrebbe è un sogno Grazie.